Ciao a tutti amici di Youtube e benvenuti nel mio primo video di Ganggy Oggi come inizio giocheremo a Clash Royale E vi spiegherò un po' di cose Qui con me c'è un Youtuber famoso, FaviJ Non mi confondete per FaviJ Stavo scappando Lui è CreeGamer, ha 20 iscritti Ragazzi, nei miei video lascerò il link dei suoi video su Youtube Iscrivetevi e commentate un botto di commenti buonissimi Perché lui, ve lo devo dire, è bravissimo Allora ragazzi, cominciamo Che vedete qua l'applicazione Andiamo su Clash Royale Faremo due o tre partite Magari lui si porterà il telefono dopo Faremo delle amiche, voglio, ok ragazzi? Ah no ragazzi, ah allora ragazzi Vedete qua, baule gigante, lo apriremo adesso fra Poi ho tre baule così al volo E guardate qua, mega sgherro ragazzi Ah io non ho ancora guardato i tornei Perché io ragazzi, oh che figo Dopo ne abbiamo uno eh raga Ragazzi Ah però raga Lo dobbiamo aprire un po' dopo Tipo dobbiamo avere dieci monete Perché così facciamo una sfida classica Sì Ma che è strano Aspetta torno indietro un secondo A me su Clash per la sfida classica Mi dice di pagare diecimila di oro Strano Eh beh a me Forse dipenderà per le arene Sì vabbè io sono in arena 7 Ok potrebbe essere Raga Siete pronti a piume e baule? Vorrei trovare stra tanto il mega sgherro raga Allora Pronti? Amici di Youtube Via Ok ragazzi Si comincia ad aprire il buio 1197 di oro Buono diecimila Così possiamo fare il torneo Eh infatti Pronti? Ma va fanculo L'aereo ragazzi L'aereo Oh principe Regà Un attimo regà Cioè l'aereo Che ci disturba Quasi ogni volta Ora lasciamo proseguire Bianchi No no vai ta vai Ok clicco io ragazzi Mio dito è santo E? 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 Vai No ma fai schifo Lui trova O pecca o stregoni Basta Ragazzi Io sono il dio pecca Il peccatore Siete pronti L'ultimo Buoni Perché io me le devo fare a 9? Beh io ce le ho già a 9 Vabbè ma te ci giochi già da un po' Eh Allora ragazzi Qua ci sono cose da migliorare Ma noi Ce ne freghiamo altamente E ancora Guardate questa leggendaria regà Si sbloccherà a breve Tra una settimana No 8 giorni Eh una settimana No Sono una settimana e un giorno Vabbè siamo una settimana E poi altre due carte Che questa qua sarà una epica Questa Che si sbloccherà A breve Arena 8 però Ragazzi ci sarà E anche questa Non mi ricordo in che arena Ma si sbloccherà Nel frattempo Cristian Core Non so perché E ragazzi Sto con me Ok raga Allora vi spiego un po' Il mio mazzo Questo mazzo Me l'hanno ricopiato Quasi tutti Della mia scuola Perché dicono Che è troppo potente Troppo potente Ragazzi ve lo consiglio Ricopiatelo Per raggiungere L'arena 4 5 5 6 E io sono in arena 7 No però raggiungere Però questo deck Che si può fare Dall'arena 4 In su Infatti quando ero in arena 4 Non riuscivo mai a salire Ho fatto sto deck Arena 7 subito Ragazzi è veramente Vabbè andiamo Ok buona futura Eh sì sì Dopo vedi che perde Ma su cammello Io sono livello 9 Tu livello 7 Ragazzi se c'ha la leggendaria Cioè noi siamo gli unici Sfigati che non troviamo Le leggendari Ah è vero regà Tutte le nostre amici Ce l'hanno Senza spacchettare Nulla No cioè No però il nostro amico Spacchettato è vero Ah sì vabbè Il nostro amico Si ha spacchettato Di brutto Boia Regà Ha spacchettato tipo 100 euro Di gene Vecchi Oh regà Attenzione Oh guardate Guardate l'attore Come fa caput Caput La valchiria Dai valchiria No però ha ammazzato Tutti i barbari Ok E' buono C'è già buono No dai Eh Cosa dobbiamo Cosa Niente Dai regà Dai regà Andiamo regà Con il devasto Il devasto Andiamo Vai valchiria Raga Per voi Dobbiamo raggiungere 10 like Sì Anche se ho 0 iscritti Ok Metti il domatore Facciamo la nostra combo Raga vi devo spostare un po' Perché se no Vai Ok Anche questo Anche questo Torre Farà sicuramente Caput Ragazzi Anche un Speck Che vi vorrei consigliare Ragà 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 Ok Almeno il mini pecca Il mini pecca Va fuori Ragazzi Proprio Dalla lista Della Guardate che capelli Che ha questo tizio Qua Vai buttiamo i goblin E buttiamo il domatore Eh Figa Se non tiri il domatore Non so Nessuno Hai I cose Azzate Ma fa schifo Fra È barbara Ovvero Si vede che Viene dall'arena No 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 Vabbè Non aspetta un po' No Me l'ha dato il colpo Ragà Siamo fuori Dalla casa di Cristian Siamo proprio nel muro Ragà Nel frattempo Io vado a buttare La torre Figa Due Che buona Questa gel L'anima vince 2-0 Ragà 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 Non vinciamo niente Ragà 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 Se arrivate a Più di 10 like O 5 like Vabbè Amichevoli con noi Sì E anche video di Pokemon Go Che sono forte Ho Un labra san 1600 Ragà Ora vi sposto un attimo Ok Eeeh Cosa possiamo fare Un'altra partita E poi io stoppo un attimo Che così aspettiamo Che lui Questo bel tizio Va a prendere il telefono No io non posso prenderlo adesso Per fare un video Davanti Ragazzi Stasera esce il video di Minecraft Pocket Edition Chi se ne frega il tuo canale Via Oh E il video di Clash Royale Sarà quello per primo Ragazzi Volevo anche Vabbè Vi dirò tutto il mio video Non disturbiamo il canale di Che Ragà Però io Quando farò i video Non riuscirò a Mettere tipo Le robe lol Scritte Ste cose così Perché Non sono capace Lo sapete Primo video Lui si gasa Perché ce la sa E facilissimo Però Mello se non le ho diciamo Perché Ok dai Ok dai Scrivete nei commenti Come si fa Ragà Nel frattempo Vi sposto un attimo Perché L'attore Deve Andare giù Guardate ragazzi L'attore sta andando Caput Ragazzi Oh Inquadrami un attimo Double deal Ragà Se io riesco ad arrivare A 2000 iscritti Anche lui 2000 3000 Così Subito Una gang Tipo i mates O Gli illuminati Creone Ragazzi Ragazzi Ricordatevi Ci sarà prosciutto Eh Prosciutto Nel suo canale E anche nel mio E anche nel mio prosciutto Chi inviterà Per primo il nome Del canale Sarà il capo Vai Però deve essere decente Figa Anzi E noi In ogni video Faremo vedere Avete visto che io Avete visto che io Ho il dubbatore Al 7 Cavolo Ragà Gli andiamo a fare Tre stelle Non me ne C'è Niente Vabbè Però Anche lui Non ce la fa Non ce la fa Sì Andiamo Contre stelle Vi ho detto Questo mazzo È troppo forte Ma noi vinciamo Cioè Ragà Vi devo far vedere Una cosa Non so Se lo vedete Però Tipo A casa mia C'è un papagallo Perché lo lasciamo libero Non libero In quel senso Ma che Va a fare il giro E poi torna a casa Quindi È un Scriviti È un Ragà L'ultima partita Vediamo se arriviamo A 2200 coppe Che siamo già A 2200 È fighe Andiamo ragà Vi piace questo video Ditemelo nei commenti Se sentite l'audio bene O se lo sentite male Se volete che è più grande La schermata Ditemelo Io ragà Non è che sono come Quegli altri Che dirà Tante parolacce Come lui Come questo tizio Sì Io sclero Perché lui È un popofiero Popofiero Nel mio canale Ci stanno solamente I popofieri E nel mio I Sapete perché mi chiamo Genghi Perché Gengar Quello di Pokémon È mio preferito Quindi Dennis Che io mi chiamo Dennis E quindi Insieme Genghi È figa E ragazzi Io ho voluto Ragà Andiamo all'attacco Ho sprecato Ho sprecato Sette Ho sprecato 7 Di Aliserv Poi mettiamo Una Tesla Non avete ancora Visto che ho messo La Tesla Ora l'avete visto Oh il massino No dai Dai Amano un colpo Ok un colpo Le l'ha dato Vai ora valchiria e mezzo Regà Cioè fra Eh fega Ragazzi Volevo ricordare Che faremo anche sfide record Di truppo Vai Sare Ah sì Che tipo Metteremo Che ne so Tipo 10 domatori O anche 8 goni 20 sgherri Faremo anche quello là Dei Come si chiamano Della valchiria contro gli scheletrini Oppure gli stregoni contro gli sgherri Eh E dopo faremo anche i mega sgherri Record Perché ancora non l'abbiamo fatto Perché io non l'ho trovato Allora raga Non perdiamoci in chiacchiere Andiamo all'attacco Subito congello Prima che ci ammazza Buono 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 Frecce Buono Eh il mastino Questo Eh vabbè Mastino facciamo così Dai mastino girati Non si è girato Due mastini Oddio Eh quello si è girato Quello si è girato Eh gli mettiamo una valchiria Che così si distraggono No Ma lanciogli delle frecce Lanciate le frecce No non ci andava Perché c'era C'erano quelle troppe là Raga Allora La seconda torre non è stata toccata Quindi c'è probabilità di vincere Quindi ragazzi Dobbiamo vincere questa battaglia Eh se la vinciamo Dobbiamo superare i 10 like E i 5 No vabbè Quella tesla ragazzi Ragazzi non so se oggi avete visto Ma non ti menzioni Ma non ti menzioni Ma non ti menzioni Ma non ti menzioni Vabbè Ragazzi veramente io mi sono spogliata Oddio 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 Vabbè Ragazzi Ma andiamo via al canale No aspettate Possiamo ancora vedere Dai Ma come fai Sì Dai Dai Ragazzi scusate per i capelli No 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 Uno Uno Sì Andiamo 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 No Vabbè Oddio No Cavolo Per due Vabbè Dai Bella partita Ma no Aspetta Perché ti ha dato Ah meno 30 Vabbè ragazzi Superiamo i 5 I 10 like Fate come volete Anzi No sì Ditemi se vi piace questo deck Cosa volete che cambio Che sfide volete che faccio Tipo 3 corone Con Tipo Domatore Così E io proverò A farle Quindi ragazzi Ci vediamo Al prossimo Video Grazie a tutti.